l'ultimi ritocchi e ci siamo ok perfetto mappa e combattenti sappiamo eh si adesso vi dico appena risolviamo sto problema delle stream papà tu come sei messo perfetto allora vi siete messi le mod no sto cercando quella del pompa mi raccomando proprio per cambiare di mod ti dico io o sei te dimmi perché ti dico mi sa che ho il problema di ieri sera che non ho lumen ancora eh di bonfio io purtroppo nel lumen non riesco a giocare quanto lumen hai? ho 500 eh per quello ti dico non ho vai dal ragno eh dal ragno ci sono appena andato a polvere al cana che non ce l'ho niente eh allora abbiamo una mod allora quella mod sarà non hai i shader da rompere quella mod sarà c'è shader da rompere fammi vedere fai cercatore e munizioni della spada allora aspetta alla testa ce la giochiamo bene la mod non fare tipo leva e rimetti perché se fai leva e rimetti spenditi più fai direttamente sostituisci cioè sì sì cercatore e munizioni per spada sì aspetta che vediamo cosa ho da rompere e la mod ce la siamo giochendo allora mi raccomando raga allora se sono cabal solari se sono ad arco ad aljara e caduti sono sempre ad arco no? beh se volete allora dai adesso sono pieno di shader da rompere se volete quindi beh se ah nel frattempo entra nella nostra squadra fai con la freccetta destra aspetta eh come faccio scusatemi datemi la mano ah quando sta in orbita quando si è in orbita su proprio le quattro freccette in basso a destra e da sera aprimi la quella a destra in basso ora cosa potrei mettere? ah cambia squadra ok era pesante allora aspettate sì e no si e no entro lo tracco esatto però più che altro non fai danno al boss con quella sì sì lo so lo so che caglio dimmi quanto devo cambiare ah devi cambiare allora una almeno due quindi mille lumere almeno sì sono a 1500 ok in realtà posso andare finché vuoi perché in realtà adesso ho visto sono pieno di shader ah boh fa niente fa niente allora devi cambiare cercatore munizioni del cecchino cambiala con quelli del pompa ok allora cercatore munizioni per fucile a pompa eccolo qua poi metti alle gambe al posto di semitraglione metti quelle dalle spade allora spada perfetto e poi a sto punto costa 3 costa 3 cosa puoi fare costa 3 metti alle braccia destrezza dei fucili impulsi così fucili impulsi barriera caricatore per fucili impulsi metodo destrezza questo è caricatore destrezza per fucili a pompa impulsi scusa ok allora ragazzi le mappe saranno come previsto da regolamento in rotazione a partire dalla prima del menu quindi la prima che trovi è quella mi raccomando il resto dei parametri combattenti combattenti adesso ve lo diciamo per votazione da parte del pubblico si noi invasione power on and plates off perfetto sambar 3 sol 100 perfetto ok mappa a posto dobbiamo solo aspettare che votino i combattenti sopra tra poco vi so dire voi quelle tu no vota su chat torneo lo vedi ha fatto il poll a geom ovviamente non votate voi papa vota ma non voi peccato non avrebbe senso non ci non ci sono infami si voterà ogni ogni partita quindi anche se a sto giro non capitano quelli che vogliono a voi una domanda però vedi che non ci sono infami ci sono l'alveare non è infami l'alveare cabal e caduti esatto gli infami non ci sono vero ma ma in base alla mappa che cambia sta cosa qua o no penso si si nella prima mappa si 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 nella prima mappa si può mettere solo cabal a caduti o l'alveare però sto vedendo che vincono caduti quindi comunque va bene questa cosa non l'avevo notata va bene comunque sembra proprio che siano i caduti ok metti caduti sulla terra cosa trovi caduti cabal la prossima mappa mi dirai cosa c'è lì lo vado a comunicare prima che faccia il video te lo dico già da ora così te lo voto lo segni stanno cabal alveare vex alla prossima perfetto ok allora visto che sono caduti in arco bravo nana mi hai già letto il bravesse grande c'è già gli impulsi c'è una c'è tipo un automatico un impulsi ad arco te power secondario un impulsi si grande con l'imperola è meglio così fai fare un botto di boss guarda sei tosse una pietra guarda vai sei tosse una pietra non ti preoccupare allora fucile di gianno grandi eh sì era quello che proprio sei fortissimo non dico a niente ci provo ragazzi io faccio del mio meglio anche se dai c'è pure con forfaro non è male quindi caduti guardate gli imbalzanti sì va bene fucile ok eh non so se specifica maggiore sulla spada o boss che dici eh cosa dici che cosa significa boss o maggiori sulla spada boss e si va di boss power ti puoi mettere la specifica boss tipo brucia due shader così specifica boss dove scusa spada spada ok raga mi confermate che siete pronti eh vai power cambia la mod e dimmi se sei pronto sì ci ho messo boss e sono a posto siamo pronti ok un attimo vi do io il via un attimo solo ok ok ho l'ansietta da prestazione anch'io quindi ci avrò la mano tremolante col cecchino bella lì potete partire buona fortuna grazie è la prima ho sonno ti aspetto chi fa il puttice va a cabal pronti eh quando sta per fare trasmap pronti iniziate a correre in avanti vai guarda correte risotto c'è un'altra qui prendete queste rimanenti io deposito voi andate già alla prossima prendo le pesanti io per invadere un'altra qui un'altra qui Sì, sei un personale. Veloci ragà, stiamo perdendo tempo, fate quel capitano veloce, vai veloci che devo invadere, vai tu power, arrivo, deposito veloce. Veloci, ah, mi raccomando, vai, 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 vai. Veloci, ah, mi raccomando, stai invadendo, stai invadendo Akami. Eh, mi ha ucciso, mi ha sponato come in faccia, è a destra, ha spiegato comunque due colpi d'adorazione, sta ricaricando la prima aria. Bravo, power. Prendi le particelle, prendine una, power e deposita, prendine una. Ah, ma no, sono qua, sono qua, sono qui. Esatto. Prendine una, deposita che invado, anzi, non posso invadere. Lasciate a me le particelle, queste. Eh, ne ho prese un paio, cinque ne ho prese. Quattro la perla. Quattro la perla. È lì in fondo, Vailer, dietro al boss. Qua, non ti affacciare alla finestra. Oh, stai fermato. Dov'è? Ah, dove c'è il punto. L'ho visto. È one shot, ok. Ok, liberati dei cosi, puliamo qui. Power, attento, non siamo a gemarire. Ultate pure per pulire, eh. Sì, sì, prendi, prendi, prendi. Prendete tutto, prendete tutto e depositate, veloce. Deposita, no. Perché hai due piccoli? Deposita, paura, veloce. Pesanti per me, è buono. Oh, ma muorì? Oh, ok. Un gatto. Un gatto. Non direi pesanti. Ne ho ammazzati tutti. Ne ho ammazzati tutti per due volte di fida. Veloci, depositate, prendi una nano e deposita, vai. Anzi, fai prima a depositare a power. Power, deposita e poi deposita nano. Così depositiamo due al posto di uno. Vai. A posto. A posto. Non ho la freccia, purtroppo. Dimmi che è di terra, dimmi che è di terra. Vai. Affanculo. Uh, vai, vai. No. Nessun problema, ti resto. Ah, uh, ha qua shottato? Non sapevo qua shottasse. Perché se ti prende, non ti prende solo col coso, ti prende pure con l'esplosione. Ancora! Stai invisibile! E' pagato anche, ragazzi. Ah, la sferta dov'è? Attenti, attenti. Qui a destra. A destra, sì. Ma, che ho qua shottato, no? Mitraglione, ecco, perché è pesante. Corpo a corpo, dai lì, corpo a corpo. Corpo a corpo, corpo a corpo. Nooo. Eh, me lo sono andato davanti, scusate. Ah, invaduto con la mitraglione. Veloce, il cavaliere, veloce. Si può invadere se volete, eh. Invado io, invado io. C'ho cento colpi di mitraglione e c'ho pure la ultima. Eh, guadagliata. Occhio, non ti devo far uccidere la Kami. E' morto, Kami. Ah, è basso, Kami. E' zio parco. Due colpi. Vabbè. E' la mano ferma del cazzo. E gli ha spunti, sta sparando con l'adorazione. Che palle, oh. Non gli ho fatto fare nemmeno le cose, vai. Vai. Guardate, vado a invadere. Fatevi i nemici, veloce. Fatevi i nemici, io invado. E' morto, Kami. Grande, Kami. Vi stai invadendo, Kami, attento. Io ho la bolla, se volete. Vai, vai, bolla, bolla. Attento che si accami. Tutti dentro la bolla. E' lì, lo vedi in mezzo? E' lì, è lì. Sotto al boss, quasi. Dove c'è l'invasione. Ok, via. Veloce, danno al boss. Si può invadere, se volete. Mi vado io? Ma mi raccomando. L'hanno ammazzata. L'hanno ammazzata. Devi sparare col pompa, le avevo tirate la freccia. Ma che cazzo di anni hanno per fare run? Uncino. Eh, stanno con doppi uncini, bastardi. Cioè, l'avete l'uncino voi? Eh, volendo, sì. Io ho fatto più danni di loro, messi insieme, tra un po'. Ok, allora dovete mettervi l'uncino. Allora. L'uncino perché è male che vada a avete l'uncino per shottarlo. Ce l'hai te, l'uncino? Sì, ma il problema è che l'altro po' stavo vorrendo anche lui. E' buonissimo. Io sinceramente, ragazzi, non ho capito la bordata finale che è arrivata dalla scuola di Cammy, da cosa è arrivata, perché eravate lì fino alla fine, poi precisamente la vita della scuola loro si è azzerata. Ma non l'ho capito nemmeno. L'hanno cittato, l'hanno cittato, lo dico io. Magari avranno usato qualche super in quel momento, boh, non lo so. Ma non l'ho cittato, sì. Cortesemente, riesci a dirmi quali sono i combattenti del terzo match? Sì. Cabal, Scorn, non so che significa, mi sa che infami. Sì, Cabal, infami e Vex. Perfetto. Cabal, infami e Vex. Vedo, secondo match, ha vinto, Vex. Non farlo partire subito, che vado a sentire gli altri se sono pronti. Sì, 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 sì. Io ho messo l'uncino con specifica boss. Minchia, tu ce l'hai pure con l'arma volpa, nano. Sei pazzo malato. Grande, nanus. E lo proteggio pure. Grande, nanus. Comunque, raga, un po' più veloci dobbiamo essere. Nel boss non ero l'unico a sparare, lì. Non si pompa, l'avevo messo a posta l'eredità. Venivi sotto con freccia e moriva. No, ma l'eredità, ma l'eredità non dovete farlo solo con il boss, cioè pure per pulire, mentre fate tipo pulizia per le partitelle. Sì, sì. Ma lì, alla fine, quando lì lo uccidavamo, se veniva anche lui a fare col pompa. Aveva un HP quasi. Avevo tirato la freccia. Solo che c'è uscito il boss peggiore. Esatto. E poi lì, quando c'era Camino, dovevano andegli addosso. I bastard hanno fatto la wombo combo. Hanno fatto freccia bomba nuova. Bomba nuova tiene canna. Loro tengono le frecce. Hai capito. C'è uno... No, l'altro tiene l'A6 colpi, Vailer. Eh, ecco perché è partito proprio il danno dal mondo. Vailer col Valang ha cambiato l'uncino. Poi è arrivato Kame con un'altra Bobba nuova. Ecco perché l'ha bordato. E' che ci siamo fatti uccidere. A me è... Kame ci ha invaso troppe volte alla fine. E ci siamo fatti morire a cazzo. Oh, vi dico che se il boss è da terra... Partite pure. Ok, vai. E scusate, quindi adesso sono Vex. Ciao, scusa. Vex, sì. Sì, sì. Allora. Io devo mettere quindi da coso? Da vuoto? Sì, c'è sempre la Bobba. Allora. Con gli impulsi. Stengo gli impulsi ad arco? Eh no, serve da vuoto, hai ragione. Io infatti metto ora il Fameru 100. Allora. Allora. Allora, allora, allora. Se il boss è da terra, dobbiamo fare una cosa, raga. Bolla, si fanno i nemici. E quando abbiamo il per due, bolla, freccia. E io di lame spettrali mi tuffo contro il boss che... Quindi sì. E voi andate di spadate. Spadate, spadate. Bolla sotto il boss, allora? Sì. Ok. Bisogna distruggere. In fondo, ok. Subito su l'Hydra, voi, eh. Andate su l'Hydra, eredità, non raccogliete le parti cellule se possibile. Subito. Porto l'Hydra. Ce n'è un'altra dietro, eh? E se venga a farlo? Ok, prendete tutte voi queste. Prendete quelle che rimangono, prendete tutte voi. Andate già alla prossima. Edità su l'Hydra. Qua vi sto lasciando tutte le particelle. Tutte le particelle qua. Ah, prendo io qua. Questa la prendo io. Uno e dieci di particelle. Non ti avvicinare, non ti avvicinare, non ti avvicinare. Ok. Ho tredici. Mi raccomando che ora depositeranno sicuro. Faccio le prenderanno. Arrivo a depositarne quindici. Bastardo, ho utilizzato i portali. Grandi, grandi, continuate, grandi, vai. Ah, sono nella merda. Cazzo, quanti ermos doggio da sono. L'ho visto, sta sopra. Che è killato. E invado subito. Killate quello, il cavaliere, che arriva un peggioioni. Un'altra. Un'altra. 10 secondi. 2 per 1. ok le ho fatte per le particelle e le ho rotte con i gang poi depositate già le prossime io vado avanti e ve le ammazzo anzi vado di lama per pulire qua ne stanno un bordello prese io vai prendete le altre quelle rimanenti che andate io vado a invadere deposito invadito mi raccomando che hanno depositato anche loro chialati tutti e tre ma prendi così qua per deciso di contemporaneamente arrivo non chialati i quattro vai pronto? vai 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 dimmi che è da terra dai brutto bastard no vabbò che sfiga raga che sfiga vai danno 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 andate di uncino voi attacco pesante attenti Akami sta a sinistra attenti sta a sinistra potete mettere esatto sta venendo a sinistra sta sulla mia luce è venuto dietro al nostro spawn si è qua da me dobbiamo fare i nemici se no moriamo dei nemici parate la bolla ti colpi di tutto eccolo là adesso lo tenano c'è la ulti pulisco io non è vero sono morto per il mob ma io sono morto per cane è che dioccaro dai questo è un morto fa niente rimaniamo allo spawn pulisco il problema di pulire non c'è perché c'è la ult occhio che camellia vi vede pure immuno non mi posso sparare da roppete la palla roppete la palla per favore vai fate danno al boss via via danno al boss danno al boss vittorio pesante ragazzi non ci morite a sinistra l'ho ucciso l'ho ucciso si ha colpi di cecchino a colpi di cecchino no c'è tenata la bomba nuova noi due l'abbiamo tenata schivata tranquillamente l'abbiamo demoliti ma dobbiamo giocare così raga infami ho poco danno fatto eh ho poco danno fatto eh ho fatto a 2.000 cercare che manco un capo ha fatto il danno dal boss lui invade e prima di questo sai qual è il problema di fare subito il primo ideale che poi tu non puoi invadere non puoi più invadere ok dichiarano l'uno sblocca nel primo ideale esatto dobbiamo giocare così raga la prossima è infami infami vada gli infami hanno tutto sono andato gli acco se non sbaglio sono ad arco tipo l'impulsi ad arco sempre sbaglio perché a quanto pare si è fatto sto primordiale si è rotto cioè si è baggato è sempre lo stesso ma io vorrei vedere ma c'è qualcosa tipo per il primordiale mi rompe i coglioni poi c'è tipo il primordiale è baggato il tuo giro li avete tenuti davvero per le palle complimenti ho messo un uccino quasi contro mi vorrebbero vedere no ma voi comunque ho notato siete molto più bravi a raccogliere le particelle ma perché altro hai esplorato lo stesso primordiale due volte è che vedevo di esatto quello è la mamma bungee se noi abbiamo un altro primordiale che sta a terra è finita lo facciamo ancora più prima comunque uno pari dai così mi piacete allora prossimi limiti sono infami no no quelli del prossimo votabili infami alveare e fallen sono i caduti infami alveare caduti ok perfetto ciao io non posso pubblicare stava infami bastardi ho l'occhio perché i rifami fanno dei danni assurdi con quelle cose che ti intrappolano che ti fanno danni sono fastidiose poi ci sono gli urlatori no no quella sono alveare alveare non ci stanno i capitani che non ponere dite che riesco a fare la pipì due minuti qua è veloce veloce arrivo subito vai ok ragazzi potete partire stiamo spettando che fa esatto andato a pisciare per l'emozione quando potete partire vabbè sì 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 così dobbiamo fare per le particelle dobbiamo andare le particelle ha aiutato un po' il danno che ho fatto con l'uncino eh ma parte cioè dovete fare così e poi ci siamo morti troppe volte al boss prima ci siamo morti tantissime volte al boss però gli toglievo e lo ricumuravano sì ma comunque vedete la realtà che cazzo serve Valiar si è rimesso all'uncino camis è cambiato ha messo a molte volte fame ruggente valanga e si è messo a solare ma così loro ridigono i danni vabbè a noi ci piace invaderà con l'occhio con il valanga il morso della volpe con un shot in testa sì invade col valanga e poi si ha la ulti la modellata sì e quello è tra un cancro è che non puoi fuggire da quella roba devi volare ci mettiamo nella bolla eccomi scusate troppo con l'impulsi non li faccio tutti i termini che fa se mi ha inviato con con l'ultima parola e mi ha distrutto dobbiamo sperare che stanno un po' bello sta già vincendo dal veara porca che presa vita tattica eredità sui miniboss e via così li fanno tutti veloci tattici scattanti incredibili il problema te l'ho detto è al boss non abbiamo cercato di morire quando chiama mi invade ma ci si va tutti addosso però poi ulti ci scioppa con il valanga oppure abbiamo la bolla del tetano ed è isso scorn scorn approcci hey you're going to love this I've seen ugly but damn scorn are ugly finish this fast yeah he's still a correre vai bring a little darkness to this fight anche l'altra parte il problema sono i bastardi che vanno che tipo diventano invisibili esatto per dire invisibili intargettabili esatto oh gli fps che vanno a puttane sono a destra due miniboss sono massimo vai andate voi sono al massimo mi ha detto che vanno a prendere i fatti non so ti senti un po' di più s24 tanto l'odio è stato prendete particelle quale sto droppando alcune stanno per scomparire qua sto scomparendo una ad esempio ne ho 15 vai vai deposito veloce power prendi tutte quelle a terra vai io ne ho 15 ma che particelle particelle ok per me ci sono stabilizzati non devo capire il motivo perché frizzano così tanto di fps eh non sto aiutati li ho eliminati tutti stanno prendendo tutte le particelle grande veloce veloce qua dietro sta una particella eh prendete prendete ho fatto fuori due orchi prendetelo prendetelo sono già 15 anch'io ok vai stanno a zero stanno a zero stanno a uscire a prendere il tuo pardo di particelle non mi piace 10 secondi che cazzo eh ne prendo 15 comunque vai 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 veloce io ho paura vai power deposita prendi 15 e deposita vai prendo 15 ma posso vi ho provato a depositare insieme arrivo arrivo sono là quasi là pronto? 3 2 1 vai dai speriamo che il boss no se se di uno con lo stesso mi incazzo eh buono il minotauro il minotauro chiliamo tutti questi bolla sul boss freccia e la distrugiamo vai bolla sul boss bolla sul boss mamma mia raga raga vedete ora vedete quanti danni ho fatto vedete quanti danni ho fatto anch'io li ho fatti in botto a 100 butto è iniziata a girare per cliccare 33 mila guardano i danni 47 mila sono quelli vedete voi i danni fioi basta premere armavolpar ragazzi fa culo dimmi la freccia e dammi schizzare le stelle c'hai in fase che eravamo tutti dentro la polla il boss era dentro la polla non poti da far niente mamma mia alveare la prossima eh alveare alveare che cazzo sono? no è sempre arco? eh alveare stanno i cavalieri d'arco ecco d'arco boh c'ho ancora l'impulso va benissimo in cazzo sta partita non avevo colpito la spada grandi ti mi avevo un botto ti 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 eh ho visto che salte ti 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 fatto sai che abbiamo capito che se il boss è da terra per terra chi è che è quittato? no power power no no si è crashato il gioco scusate ok arrivo ho fatto grande paura vuole che non l'ho fatto in partita altrimenti avverdavamo si guarda lascia stare non capisco perché ogni tanto si crasha il gioco vabbè vabbè però negli fps ti giuro non capisco il perché eh boh non vedo giuro che mi arrivano tutti i pezzi del computer nuovo perché sto qua stavano gli ultimi io voglio sentire cosa stanno dicendo è colpa di nano fa troppi danni mi butta fuori dal gioco due o tre siete minuti che mi butta non capisco Grazie. Grazie. Dicono che è questione di armi. Se capita di nuovo un boss che per terra abbiamo vinto. Se è stata attiva di prima e vinciamo. Dai, non può capitare di nuovo quello con l'occhio, per favore. Farà su quattro, Dio. Una sfiga mai vista. Ma cosa gli stai dicendo, Deft? No, se n'è andato a te. Però gli ho fatto il cazziato. Perché? Meglio così che giocano male, diciamo. Perché è tipo detto, Kami, che a lui non gli interessa di vincere, cioè almeno non se la prende. Eccomi qua. Allora, avete l'alveare come prossima razza. Quali sono i combattenti? Quelli successivi? Sono gli stessi della prima partita. Se vai a vedere quelli di prima erano... Sì, però io ho la votazione con quelli con i nomi sbagliati. Perché ti ricordi che avevamo sbagliato la prima. Sì, sì, sì. Era Kabal, Caduti e Alveare. Ok. Wow. Facciamo due vittorie, giusto? Sì. Però sì, ovviamente. Se vinciamo, sì. In teoria. Esattamente. Secondo me, test gazzate, ci stavano belle... Ok, allora, potete partire quando volete. Sì, lo vedo se va a Alveare. Ok, possiamo andare. Perfetto. Sì, 1.300, così io non mettevo neanche piede dentro la partita. Beh, è uno di quelli difficilissimi. Ok, dici? Cattelka, è cappato a 1275, il calo. Ah, ok. Sì. Freddo di niego, lancio tranate, eh. Sempre Flavio è rimasto. Kami è cambiato. Messo successione, oracolo spericolato e commemorazione. Quindi c'è chi nocchio, c'è chi nocchio, c'è chi nocchio, c'è chi nocchio, c'è solo tre colpi. In pratica è rimasto uguale. Solamente che al posto del Morse del Warpere ha messo successione. Al posto del Famer Urgente ha messo l'oracolo spericolato, che secondo me poteva tenersi il Famer Urgente arrollato meglio. E ha messo il Comerazione al posto del Valangha, che ha arrollato molto meglio. Eh, ma il Famer Urgente, se sono a Dark, non serve un cazzo. Cioè, fa danni perché comunque fa danni il Famer Urgente. Però non butta giù gli scudi. Io purtroppo sto col Famer Urgente perché vi aiuto a pulire un po' tutti, a parte gli scudi. Però... Più che altro mi serve per invadere a me. Vai, correte. Da, è strabello, perfetto. Il Boss, è veloce. Lasciate le particelle, grande. Mi serve una mano qua per il Cavaliera, aiuto. Se il Cavaliera è grosso, vi grosso. Matteo, guardami la particelle. Quanti hai? Undici, dodici, lasciatemi quelle tre. Prendete tutto il resto, vai. E hanno fatto prima di noi, eh. Io devo andare a depositare velocemente. Esatto. Serve una mano a pulire? Non ho fatto. Alla prossima... Il prossimo deposito che fanno è invadono, quindi mi raccomando attenti. Attenti all'urlatore, dovrà tutto. L'urlatore è deciso. Lasciatemi le guardie particelle, andate. Siamo già in base. Esatto. Riccomando, state attenti. Sto cazzo di urlatore che ammita nel frattempo, rompe i coglioni. Ecco a sinistra qua, lo vedo. A metà vita. Mi sto pushando. Ecco, no, ce l'hai a sinistra. Power ce l'hai, esatto. Avevo l'urlatore che mi rompeva il cazzo, tipo. Fa un culo. Io ho gli FPS che non c'erano. Dobbiamo fare fuori una avalancia. Smart. Ne ho qui, dice, venite qua in fondo. Veloce, dovete depositare, scorrete. Se no non si va avanti, scorrete. Dovete depositare. No, hai rotto le palle, urlatore. Camminate, attenti, stiamo perdendo pure particelle. Prova a ucciderlo, io non ho particelle. Come tanto, avevo zola particelle. E dove sta? È praticamente all'ingresso dove sono le bici. Alla, a destra. Oppure qua da me? Alba, alba. Di tre di testa. Ok, è morto. Spregata, spregata, vai. Fate il cavaliere che sta al centro pure. Che stiamo perdendo un sacco di particelle, esatto. E le stiamo perdendo di nuovo. Siamo entrati nel giro che non riusciamo a fare particelle e non riusciamo ad andare avanti. Riusciamo a fare particelle perché... Eh, mi ti pegga pure, grande. Che palle... Ma come mi hai ucciso? Ma come cazzo fai commemorazione ad essere così preciso da quello alla distanza? Ma no. Ma perché ti pegga? Porto, che è un down. Invaders off the field. Eh... La vedo duro da recuperare, eh? Si può, si può, però si mi date una mano. Passato. La magliarda è ma qua ha sciottato, porco Dio. Eh beh, il problema sono l'alveara perché gli urlatori... Sono un po' nel cazzo. Prendete queste. Poi con le eredità hanno riuscito a fare molto per la controlla. No, si è bloccato, Fiori. Come si è bloccato? Niente, è crashato. È crashato. Anch'io? Ok, no, io no. E mi si è bloccato tutto. A me non me le fa prendere, queste qua. Eh, devo riavviare il gioco. Fa niente, riavviare. Se dovete piacere per... Cos'è che ha scritto? Non l'ho capito io. Non è che... Non è che... Non è che... E questo è successo. Qu'è io? io non capito se dovete piacere no senso che visto che è crashato la resta pava raga ma che cazzo state a fa' che è successo scusate io sono crashato ah ok è crashato proprio il gioco diretto ma si è bloccato tutto esatto comunque potete rientrare quando nel caso crashaste poi non so a che punto è successo ho appena riavviato allora stavi fresco e purtroppo quelle sono imprevedibili mi dispiace ogni tanto non capisco perché mi dà sti problemi anche prima finita la partita sono crashato e adesso si è proprio bloccata la schermata di gioco sono dovuto uscire perché ho appena riavviato adesso sto entrando va bene dai lo comunico ma quindi quella l'abbiamo persa è per forza chiedevo chiedevo scusate non sapevo ora capo alla solare ti erano con doppio cecchino tacci loro con la vittoria iniziale perché prendono impulsi sola non ce l'ho l'impulsi solari vado di mitraglietta ho vado di pistolino 140 con panfaroni no le votazioni sono pare si hanno vinto caldo metto questa pistolina qui ottengo un mitraglietta un rosso mortale c'ho l'antica dogma allora ragazzi prossime sono i cabal ok sì e questa è l'ultima partita che vince si porta a casa tutto ok ok sono crash sperando vabbè comunque erano comunque già sì sì nel vantaggio vabbè ma è sempre determinante però da fastidio lo stesso sì 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 è chiaro sono cose che dispiacciono anche perché non dipende da nessuno vado a capire se sono pronti poi ti confermo di partire ok quasi sono tutti a terra il cavolo non ce n'è uno da ragazzo ora è tico dogma o il marasso mortale non altro solare vedita non lo so cosa vuoi fare quando vuoi partita ok il cannone portatile colpo rapide colpisce la velocità di carica non 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 Grazie. 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 Mi raccomando ragazzi. Impegno. Dobbiamo essere più veloci pure a pulire. Prima abbiamo perso un po' di tempo. Ok. La legenda dice che l'Empire Cabal mantiene grandi mondi athenaeum, pieni di attacchi. Oh, prima di un'altra non mi ha crashato. La legenda dice che l'Empire iscrivetevi. No, ma io ho raga. Non mi bastano. E arrivo. Mentre prendo quello. Non mi bastano. Questo no, me ne serve uno qui No, va a te uno Vai, 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 veloce, veloce, vi spiace, vi spiace, vi spiace, veloce Veloce, veloce Hey, you're losing most Ice the blockers Veloci, raga Depositate tutti Depositate tutte e due Tutte e due, vai Vado, vado, vado Prima che depositano loro, vai, vai Che c'ho 110 colpi di mitragliano, vado Morto uno Cammy one shot Falto uno Cammy fatto Flavio pure Fatti tutti, fatti tutti Viva, sto morendooo Daiii Quanto ne ho più zuci di eredità Eh, niench'io Ma qua niente Non t'ha restato Guarda non t'ha restato Chiediamolo Si non mi sta torpando munizioni manco a me Ah per io l'ha dobi spada Nooo sto morendo Hanno perso un sacco di tempo Depositate veloce Ne ho 14 Stavo un ricercato per strada Il resto dei particelle me le prendo io Io ne ho presa uno No non ho presa Prendetene una a testa va Che cazzo va Deposita tutto Non ho municini pesanti Io si Non capisco perché non mi prende la particella Non devo fare niente Deposita Fanculo Stiamo perdendo particelle Raga Tranquillo Quelli piccoli Ok Mi ha ammazzato ma gli ho fatto utilizzare la ult Mi raccomando veloci depositate anche ora Vai 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 Dobbiamo essere veloci Ammazzate le depositate Non ve ne fottete un cazzo Invasione Vai depositate Così cazzo Ok Ok Faffanculo Anche uccide c'è ma non hai risolto niente Esatto Sta arrivando lì qua Occhio Ok Oh a terra a terra È il nostro È il nostro Devono andare a prendere pesanti però Voi prendi pesanti Prendi quel cazzo Voi Voi Bolla Fate tutto Sta a destra Sta a destra È nella spiaggia È one shot È one shot Sta su la mia luce Zio porco Ho inventato dentro la bolla Fa niente No no Ma tu hai altre particelle Per altre pesanti Volevo dire No io non ho cazzo Marta Mi ha ucciso Venendo qui Con il corpo a corpo Ho sciottato la cross the map Bella sotto Quella sedia di merda Lo strego Io ho solo pesanti Tra poco io ho solo la ult Non ci moriamo ragazzi Non ci moriamo ragazzi Sempre in spiaggia Venite da me Venite da me Power Nola Stavo arrivando Scappa Ti resto io Ti resto io Faccio la ulti Prendi le pesanti Prendi le pesanti Dai perché sto corpo a corpo Dai ragazzi Dai ragazzi Senti A destra sempre Ragazzi Cazzo Non ci dovete morire Eh ma dobbiamo fare 1v3 Ragazzi Se no non ci fa Una a una Perché c'è il mitraglione Ci fa Cazzo Eh zio porco Te l'ho cecchinato Te l'ho fatto Io invado però La vedo dura Questi ora ci fanno Ci hanno recuperato E questo è quello Che non ho più ammo Io Eh I temi Io non sono mai riuscito a prenderle Quegli faccio Cami Mi uccide E lo rifa Non so far niente 10 secondi Hanno sprecato le pesanti Su di me Vai 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 Per favore Di tutto Buttati Di tutto Vai Che hanno loro Hanno un botto di pesanti È quello Tutti insieme Su Cami Tutti insieme Io non ho vita Non ho vita io Ciao Alba Come mi ha ucciso Non mi ha mai preso Nella vita Che folle Beh Basta Io non ho ammo Io ho finito Io ho tutto Tutto gli ho tirato 20 volte Tutto gli ho tirato Io non posso farmi Bella penta Ogni 10 secondi Niente abbiamo perso Ragazzi Nessuno tira niente Io non posso farmi La restabile da solo Punto Io non ho I colpi di spada Che avevo Gli ho tirati tutti Pompattuto Non è niente Non sono a primare io Guarda che culo di merda Guarda il mio danno E io non posso fare di più Io quello più di così Non posso far Ragazzi Io non ho le armi Per fare danno C'è solamente per invadere Infatti io quello A me Io ho più di 140.000 Non so cosa fare Lo devo quanshottare Non lo posso quanshottare Ragazzi Il problema è che Siamo morti sempre da full team Cioè Ne ho morti al primordiale Perché? Perché che mi viene Con il pesante E ci fa fuori tutto E ma perché Raga Porca puttana Ve l'ho detto Cioè Ma io sono davanti al boss Io gli vengo qua Quando in vaso Avevo un HP Ma vaffanculo GG sto cazzo Io non posso fare tutto Che culo di malda Solamente perché hanno le pesanti Che culo di malda Schifo Che cazzo Hanno vinto anche perché hanno lo stregone Semplice Dai ma che culo di malda Fans Tre partite vinte E il team Nani Possenti Due partite vinte Vincitore Team Camion Onlyfans Il mitico team B Eccoci Eccovi Comunque Non mi aspettavo completamente Devo essere sincero Bisogna crederci fino in fondo Diciamo che siamo stati un po' dimotivati Dalla partita Quella all'interno Comunque Ti fermo subito Camion Così possono parlare tutti quanti Spostiamoci sopra Ah sì sì Andiamo in chat generale Andiamo in chat generale Scusate